Allora Vicenza Nibali, ieri questo grande annuncio, come ti senti dopo aver annunciato il tuo ritiro a fine stagione? Tranquillissimo, perché come ho detto anche ai colleghi Rai, sapevo più o meno dove volevo arrivare, era soltanto il momento giusto per dirlo e quindi sono veramente tranquillo, niente di che, quindi chiuderò la stagione a fine anno. Era bello dirlo magari che questo era l'ultimo giugno d'Italia per il pubblico, per i tifosi e nient'altro. Come hai fatturato questa decisione? Troppo presto per parlarne, quindi magari a bocce ferme poi più in là se ne riparlerò. Il fatto di sapere che è l'ultimo giugno ti dà magari una motivazione extra? No, lo cerco di viverlo con serenità e ho preso questo giugno d'Italia per come veniva, quindi l'ho sempre detto, sono arrivato un po' qui a fare i spenti, l'ho detto dall'inizio, le ambizioni ci sono, però è chiaro che ottenere il massimo diventa sempre più difficile ogni anno che passa, è chiaro. Non si sollevano le cose, era già così, avevo già segnato questo giorno da tanto tempo. No, perché mi manca qualche articolazione, quindi è un inglese.